I don't know the right lie left to say Hanging on to my mind as it swains Ciao, amici. Domani potrò cancellare l'ultimo punto della lista. È semplice, ma per questo l'ho tenuto alla fine. Spesso le cose più piccole ci ricordano maggiormente ciò che è importante nella vita. Ehi, date un'occhiata. Come l'amore, che sa curare il passato e ci dà speranza nel futuro. O come la famiglia, che ci sta sempre accanto e che non ci lascia combattere da soli. Sapete, la fede non ha a che fare solo con la religione. Ci fa capire soprattutto il senso di unità. È facile scordarsi che siamo tutti legati. È facile spaventarsi, essere in ansia o essere in collera. Ma questo non significa aver perso la fede. Ci basta incontrare un amico capace di farcela ritrovare. La nostra fede egli non è mai tardi per ritrovarla. Va tutto bene? Hai freddo? Sto bene. Grazie di avermi portato. Grazie a te di esserci. Sai, vedere il sorgere del sole era l'ultimo desiderio di Anne. Devo cancellarlo io per lei. Tu come ti senti, Miles? Ti dirò... Non lo so proprio. Sì, lo so che era importante la fede per Anne. Adesso l'ho capito, ma... Perché l'account me l'ha segnalata quando sapeva che sarebbe finita così? Forse non dovevi solamente restituire la fede ad Anne. Può darsi che l'account volesse ricordarti che non è tardi. Che la fede è sempre lì che ti aspetta quando la cerchi. Che falle, she falle, she falle, she falle, she falle.